ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale oggi siamo qua a bordo di questa porsche macan 2017 come potete vedere quest'auto era provvista di apple carplay ma non di android auto e il cliente ovviamente ha un telefono android e ne ha bisogno e quindi si è recato qua da noi nel frattempo vi facciamo vedere che le informazioni del software della radio sono proprio in questa sezione qua e come potete vedere dalle informazioni software anche la cartografia la terza riga aggiornato 2016 17 perché questa macchina di 17 quindi andremo ad aggiornare anche quelle eccoci ritornati in auto dopo le nostre modifiche come vedete la schermata è quella di prima però adesso andando a collegare lo smartphone android viene riconosciuto ci chiederà la prima connessione daremo un consente anche sul telefonino compare l'icona android auto e a quel punto abbiamo il nostro android auto perfettamente funzionante in auto che ci accompagnerà nei nostri viaggi con le varie applicazioni spotify maps i navigatori in generale eccetera siamo andati a sbloccare i video in movimento vi ricordo non per noi che guidiamo ma per i nostri ospiti magari distraendo loro loro non distraggono noi mi raccomando noi non guardiamo il video mentre guidiamo come potete vedere anche in movimento il video viene continuamente riprodotto ultima cosa che andiamo a fare è aggiornare la banca dati con la versione delle mappe 2024 andiamo a far partire l'aggiornamento dopodiché avremo le mappe completamente aggiornate tornando nella schermata con le informazioni delle versioni software potete vedere la terza riga che adesso è aggiornata al 2024 altra cosa interessante che abbiamo aggiunto vi ricordo è anche la possibilità di vedere dentro al navigatore porsche gli autovelox d'italia quindi autovelox mobili fisici ztl tutto sopassometri eccetera 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 ragazzi se vi è piaciuto il video mi raccomando spolliciate lasciate un sacco di like iscrivetevi ai nostri social e se avete una macchina come questa qualunque porsche non per forza la macan 2017 ma anche caiman e altre scriveteci perché facciamo abilitiamo queste queste questi plus in più che magari di serie non avete ciao e alla prossima